Uno dei tuoi punti di forza potrebbe essere saper parlare in pubblico. È una capacità così importante per sostenere le tue idee, prodotti, la carriera. Qualunque cosa tu faccia o voglia ottenere dovrai convincere altre persone di qualcosa e nessun'altra forma di comunicazione è così efficace come parlare in pubblico. Chi lo comprende ed ha successo riscuote lauti dividendi e ottiene molto di più di chi non riesce a farlo. Se hai paura di parlare in pubblico non riesci a conseguire questi risultati, non sei efficace o ancor peggio cerchi di evitare tali occasioni. Non importa, in ogni caso è un ostacolo per te, il tuo lavoro, il messaggio che vuoi portare o il prodotto o soluzione che vuoi promuovere. Contrariamente a quello che potresti pensare non è però un problema insormontabile e sì c'è una soluzione. Aiuto le persone nel public speaking e nelle presentazioni ed è a oltre 20 anni con seminari e coaching in diversi paesi del mondo. L'esperienza mi ha insegnato che chiunque può vincere quella paura e io stesso la affrontai quando iniziai a parlare in pubblico 30 anni fa. Farcela mi ha offerto grandi opportunità nella mia carriera sia come formatore e poi come venditore e infine come manager. Oggi non vedo parlare ad una platea come un motivo di ansia ma piuttosto come una straordinaria chance di poter dare loro qualcosa e ricevere in cambio. E in più può essere anche divertente. Ho realizzato un seminario specificatamente per aiutare le persone ad ottenere gli stessi risultati e questo corso è costruito su di esse. Come sarebbe, come ti immagini se tu potessi mettere le ali ai tuoi messaggi, alle tue idee e capitalizzare su ogni occasione di convincere le platee? Puoi e non esiste una pillola magica per riuscirci, anzi richiede un tuo impegno, ma non c'è ragione per cui tu non possa godere degli stessi benefici di centinaia di persone prima di te. In questo corso ti spiego perché e chiaramente come. Controlla il contenuto e troverai passi semplici ed efficaci che ti aiuteranno a gestire la tensione nervosa. Si tratta di consigli ed azioni facilmente praticabili che non richiedono nessuno strumento o inclinazione particolare. Se hai la volontà di migliorare e segui queste importanti raccomandazioni, non così note, vedrai che ce la farai. Toccare con mano i progressi aumenterà la tua fiducia e la tua sicurezza. Non sarai annoiata o annoiato o con maggior stress, è una promessa. Trasformare un impedimento in un punto di forza è un risultato fantastico e vale sicuramente la pena provarci ed impegnarsi. E poi è la garanzia 30 giorni soddisfatto o rimborsato nessuna spiegazione richiesta. L'unico rischio che corri è aumentare il tuo successo. Quindi non aspettare, inizia ora. Sebbene richieda tempo diventare un oratore sicuro di sé, i primi benefici li vedrai già dalla prossima occasione.